Namaste e bentornati a un altro episodio di Spellbound Caves. Io sono AceTheBrave e con me sta giocando Carbancos. Ciao! Ok, dall'episodio precedente, come vedete, siamo al Monumento della Vittoria e ci sono un paio di cambiamenti. Intanto, piantagione di alberi, piantagione di patate. Piantagione di albero. Piantagione di albero, perché è uno solo. Un po' di cosine qua, cazzate varie, blocchi, pantaloni, eccetera, eccetera. Tra l'altro ho creato, non so se sono qua o sono qua. C'è un po' di carbone che un po' è stato fatto e un po' l'abbiamo recuperato dal dungeon successivo. Spostato dal tavolo di incantesimi, tra l'altro io posso incantare la spada. Io ho cinque livelli a forza di fare... Eh, che bello! Ho la spada con Bain of Artropods 1. Inutile. Beh, se becchiamo dei ragni, almeno faccio qualcosa. Ok, è giorno ancora, quindi possiamo andare a affrontare il prossimo dungeon? Sì, mi prendo un po' di cose, tipo da mangiare. Sì, qua c'è del cibo, prendi pure un po' di patate che io ne ho su un po'. E cosa posso portare? Qualcosa di questi, un po' di legno. Di dispenser e due li venti. Qua. Luci. Ah, hai preso il dispenser alla fine. Sì, sono toccato il dispenser lì all'inizio. Eh, non credo, abbiamo torce. Ne ho preso 8, cioè ne ho preso 6 io. Ok, io ne faccio un po' di più allora. Così abbiamo un po' di torce, 24 torce, spada se vuoi c'è il battle sign da qualche parte. Eccolo qua. Lo prendo io. E un po' di scale porterei anche, non si sa mai. Sì, sono sempre comode. E legno. E possiamo partire? Sì, adesso prendo il legno. Ah, l'arco le frecce. Le frecce ce ne ho io 8, te le do. Te le doi anche tutte perché sei più bravo di me, però. E il piccone. Questo qua, questo qua. Le frecce le mettiamo qua. L'arco fa un po' schifo. Possiamo farne un altro di arco, no? Sì, ci sono 16 string qua. Qua, in varie. Arrivo. Magari vi faccio un altro arco. Dove che ci siamo. Prendi pure una crafting table, magari. Ma per l'altro che non trovo il legno, ecco. Devo prendere un po' di legno. La crafting table. Gallinei non ci sono, eh. Ok, grazie. Questo è letto via, quindi. Ok, possiamo andare? Sì, andiamo. Aspetta, varie. E via questo. Ok, via! Batti il sign. Tata-ta-ta. Ho messo le zucche. Ah sì, qua ho largato un po' il passaggio perché ho preso un po' di cobblestone. Ah sì, cobblestone. Che scemo. Ah sì. Ci saranno un po' di blocchi, magari. Ma se io per sbaglio posiziono il battle sign per te, cosa succede? Eh, non farlo perché perde l'incantesimo. E poi perde l'incantesimo e siamo fregati. C'era qualche blocco, cioè ci sono pochi blocchi di sabbia ma un po' me ne porto via. Ok. Ok. Parapara parà. Ah sì, qua ho messo un po' di... Ho ridotto il passaggio come puoi vedere che sono un po' piccoli. Di qua, giusto? Sì. Ok, allora l'altra volta cosa avevamo fatto? Avevamo distrutto la cassa. Sì, il cristallo a mano. Ho posato a pugni il cristallo. Ah sì, giusto, è vero. Ma qua c'è ancora il feather falling. Scendiamo giù. Dovremmo andare tipo sopra dove c'erano i due cristalli. È vero. Oppure... Ah, aspetta perché... Scendi un attimo. Sì. Perché non è che ci sia... Cioè, esplorando qua. Visto che c'è un casino d'acqua. Non è che magari c'è qualcosa sott'acqua, ancora passaggi, una roba varia. Quindi bisogna cercare sotto. Aspetta che sono pieni di blocco. Oh, evviva che ci sparano di già. C'è una cesta qua. Dov'è? Qui, qui. Vedi là pure. Wood per 128. Ok. Sono ancora vivo. 128 di legna. Uh! Legna planks o legna... No, 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 log. Ti ho anche. Ah, l'hai già presi? Sì, sì. È questa chest qua, ok. Bene, bene, dai. E vediamo un attimo qua in giro... Se serve un po' di torce dimmi che io sto facendo un po' il giro. Occhio qua. Comunque ci sono... Mi sa che bisogna salire... Da lì. Uh! Un altro arco. Ho recuperato da uno scheletro. Eh. Io intanto sto facendo il perimetro, come vedi, perché... Uh! Là cos'è? Una cassa? Sì, c'è qualcosa. Aspetta. Aspetta che mi stanno inseguendo qua. Grazie. A me manco di dare le esperienze mi danno qua. Aspetta che vengo a mettere un paio di torce. Ho visto qualcosa lì sopra, eh. Aspetta. Ah sì, c'è una cassa là. Eccola. Questo. Vai. Occhio qua, c'è un creeper. Coal 128. Coal, eh? Ah, ok. Ah, sì. Uh! Ah, proprio carbone, carbone. Io ho una freccia sul collo, adesso. Sì, lo veste. Da fastidio? Eh? Da fastidio la freccia? No, no. Cioè, la vedo solo sull'avatar. Adesso è sparita. Occhio. Ho un po' più di torce. Ne ho fatta qualcuna in più. Tra l'altro abbiamo carbone infinito qua. Vediamo un attimo cosa c'è qua sotto. No, vedo solo squid e niente. Per adesso. Continuiamo a fare il giro? Sì, sì. Tanto comunque dobbiamo entrare da qua. Ops. Scusa, dove? Da questa torretta qui. Ah, c'è la torretta da questa parte. È bello. C'è anche il pipistrello. Pipistrelli. Perché ricordo stiamo giocando... Oh, ecco. Scusa. Ah, mi è colpito a me. Eh, sì. Hai detto, cavoli, pipistrelli. Cos'è? Batman. Batman. Tra l'altro abbiamo aggiornato al 1.4.4. Perché il server è stato aggiornato in automatico. Oddio, cosa ho visto. Cos'è visto? Oddio, cosa ho visto. Ferro. Sì, tanto. C'è del ferro qua in mezzo al lago. Adesso vengo ad aiutarti. Qui dove sono io? Eh, vai a scavarlo là in fondo. Oddio, ma ci sono tante strade. C'è una strada che dalla torre porta a dove ci sono i due cristalli. Poi c'è una strada che va in una grotta illuminata. Sì. E poi basta, sono due strade però. Bisogna scegliere. Dov'è che è? Ecco lì, cavola. Io ho portato sabbia, quindi direi che possiamo fare anche... Guarda, poi ne ho un po' di... Di... Aspetta, eh. Se ne facciamo così... Sì, perché ci metti tanto a scavare, mi sa. Eh, sì. Oh, ps-ps-ps-ps-ps-ps-ps-ps. Evviva. Ah, abbiamo le scale, che scemo. Le fanno... Possiamo fare così le scale, aspetta. Direttamente, eh... Faccio uno, due... E poi ci metto le scale. Wiii! Mi vedo? Eh, posso stare sott'acqua? Eh, sì. Ok, aspetta un attimo che ti fate un po' di spazio. Ok, grazie. Ok, possiamo scavare un po' di ferro. Che bello. Wuuu! Tra l'altro non mi fa... Non appare il segno di... Che sto rompendo il blocco. Eh, neanche me, in effetti. Però intanto... Ah, che bello, un po' di ferro. Quindi abbiamo già completato, praticamente, un altro pezzo del tormento. Facciamo il blocco di ferro. A parte farci armature e cose varie. Quindi, quasi quasi, ci fermiamo un attimo e ci mettiamo a scavare questo ferro? Sì, sì, togliamolo tutto, togliamolo tutto. Ok, allora ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Ok, rieccoci qua. Abbiamo recuperato un po' di ferro. Ferro. Come potete vedere dalla cottura. Sono circa tre stack. Ah, tra l'altro facciamo esperienza con questa. Io prendo giusto i pezzi per poter creare... Il blocco. Il blocco. Si crea così. Block of iron. Tra l'altro non ne dà ne... Vediamo. Andiamo a mettila. È qua in fondo che va. Iron block. Sbaglio. Vai. E là. Ok, abbiamo due... Dei... Quanti sono? 16 più 3 è 19. 19 blocchi. Intanto siamo arrivati a livello 2. E se vuoi farti i livelli prendendo il ferro? Sì, sì, sì. Adesso sto facendo... Sono a livello 4. 2. 4. E così possiamo farci anche spada. Possiamo farci l'armatura, magari. Così evitiamo di morire ogni due secondi. L'armatura. Ok. Adesso facciamo ancora un po' di livelli, poi ti lascio... Sì, sì, fai pure. Tanto io cos'è che ho recuperato... Ah, sì, abbiamo recuperato un po' di ink sac, ma che non andremo a utilizzare per colorare la lana. Non vogliamo barare. Cosa faccio, incanto la spada o l'arco? Forse anche l'arco, così quasi. Anche perché la spada la puoi fare... L'hai già fatta in... In ferro? No. Ah, che è vero. Possiamo fare 6 cosa? L'incudine. Uh, a dire il vero, è vero. Non so che ci serva però a questo punto ancora. Va bene, nel senso, però è figa da bere. Sì. Se ci avanza un po' di ferro, sì, però... Conserviamolo per le armature, intanto. 5. A power 1. Power 1 sull'arco, molto bene. Io allora, con 16 pezzi, cosa mi faccio? Mi faccio... 4 spade. 4 spade di ferro. Così tenendo 2. Ok, ok, ok. Ti faccio la chest, io. La chest plate. Sì, perfetto. Tieni. I pantaloni facciamo, nel resto. Poi cos'ho? Ancora posso fare 1, 2, 3... Un elmo. Pantaloni dei granati. Pantaloni, ok. Che brutto che sono quella. Con l'armatura? Sì. A piedi e nudi, però. Sì, sì. Ok, e cos'hai bisogno ancora di pezzi? I piedi e l'elmo. I piedi li faccio io. Ah, hai già i piedi? No, no, non li ho ancora fatti. Eh, li faccio io allora. Allora mi faccio l'elmo. No, ho fatto tutto quanto. Ah, ok, 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 posso. Non faccio niente. Eh, 1 e 2 e questo è a me. Ok. Ok, vediamo se riesco a mettere un incantesimo qua. No. Sai che volevo fare? Non dico dubbio. Intanto vediamo se arrivo a cinque livelli. Qua è finito, sì. Allora posso prendere metà di questo. Andiamo, riusciamo a dormire, eh? Mmm, che sui sì. Bello dormire con l'armatura di pietra. Di ferro? Di ferro, scusa. Di le giade. Aspetta che anche devo dormire. Esatto. Ci sono a posto. Ok, vediamo se... Faccio ancora un po' di esperienza. Ma è che si fa. Manca poco. Come si fa l'incudine? Non ne ho idea proprio. Ah, boh. Penso si faccia... Con blocchi di ferro e ferro. Eh, sì. Credo messi in tre righe. Tre righe. Incudine, come si dice in inglese? Eh... Si dice... Oh, cavolo. È bello che ho letto la news mille volte. Esatto. Eh... Oh, non mi viene in mente. Fail. Eh... Vediamo se la trovo da qualche parte sulla wiki. Aspetta, se te lo voglio dire. Lo sento che ce l'ho. Si chiama... Niente. Proprio zero assoluto. È proprio il vuoto della testa. Yep. Tantantantant... Dai che ti trovo. Che avessi o almeno la nei, potrò guardare. ah e beh si oddio ce l'ho solo pute la lingua e anch'io non riesco non la trovi? eh non la trovo no dove sei? dovrebbe essere tra l'altro oh non c'è mica non c'è? ah Anvil non ho cercato non ho cercato su internet cioè proprio ok adesso si cotta con tre blocchi di ferro e quattro tre blocchi di ferro sopra e poi la base fatta da una T rovesciata di ferro quindi ne servono 9, 18, 27 37, 31 madonna hai fatto 5 livelli e ci avrei anche se vuoi però ah no tanto che adesso cioè è bello che possiamo cambiare tipo i nomi alle però senza esperienza non è facile oh una spada che è un smite 1 ah buono qua abbiamo finito il carbone quindi questi li posso muovere qua ok abbiamo 59 pezzi di ferro più quello che rimane metallo ah ok ancora quindi uno stack e rotti questo lo mettiamo qua questo lo mettiamo a riparare con l'altro arco ok un po' di legno e possiamo andare avanti sì questa la lasciamo qua così ok via aspetta stai scappando di gioco ma io ho praticato lo stesso equipaggiamento di prima ho pillo la roba in ferro beh non è poco eh che buffo che sei con le perché gli occhi cioè tipo sono sotto l'elmo sì no non di qua sì di qua scusa eh sì sotto l'elmo ti stai nella mia visuale ti stai praticamente guardando l'elmo cioè cosa in mezzo il pezzettino in mezzo dell'elmo il coprinaso non che il mio personaggio si è messo tanto meglio eh 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 ok ma la stacca solo io vedo che la glowstone cade cioè ho visto tipo e l'ho vista anch'io ah ok ma non ho ben capito che cos'era l'ho vista di sfuggita e ho detto vabbè sarà tra l'altro vedo Enderman là dietro e ti ho perso cos'è? ti ho perso ah no aspetta ah no sto scendendo ancora evviva muori ok eh ritorniamo in mezzo ancora la fece ecco il terreno centrale questi li hai messi tu cosa? no questa grave qua no penso che sia caduta da sopra ah ok sarà ah forse sai cosa non è che magari un Enderman ha preso un blocco è aggiornato tutto forse ok qua è dove c'era qua abbiamo fatto come potete vedere abbiamo preso tutto quanto il ferro il ferro ho messo un po' di scale per poter respirare anche i cartelli quelli che vedete guardate che miniera acquatica tanto continuiamo avanti adesso qua ci dà un po' mettere giù un po' di torce anche bello tento che qua dietro c'è il mondo ubicato al volo no si è abbassato si perchè metto le torce qua devo metterle qua sopra magari finito? bravo sto salendo su di qua vediamo se c'è un'entrata ti stanno seguendo uno scheletto uno zombie e un Enderman eh ho visto un Enderman eh sì scusa un creep è uno zombie lo zombie sarà puoi entrare dentro qua ok io mi sto facendo una strada all'interno della torre a sto punto che senso la strada? eh sto scavando all'interno della torre per andare su perché non c'è la scala? ah sì non avevo visto l'entrata mi sono fatto l'entrata io comunque c'è la scala per salire e c'è anche una cassa a metà strada come l'ho vista tre barche un po' di legna tre barche e una golden apple la golden apple tienila che possiamo darla a un villaggio zombie così diventa sì è vero potremmo fare qualcosa del genere prima che non so come si fa la pozione di debolezza andremo a vedere le ricette anche di quella intanto metto giù un po' di torce ah si può andare di là ah qua è quello che intendevo io che mi stavi scrivendo prima sì qua c'è lo spawner di ghast e sto pensando visto che non siamo neanche messi male proviamo ad andare là con i ghast e vedere se ci sono casse prima c'è una là sotto le vedi? ah sotto sotto è vero aspetta che ok piano piano che ci avviciniamo troppo ah si sono due vedi che sono due di cosa? lì dove c'è il ghast vedi che sono due ehm come si chiama? ah cristalli cristalli sono due uno sopra l'altro ma lo distruggo? eh volevo fare una faccio una corsa un attimo posso scendere da qualche ok faccio una corsa e mi butto su nel lago così vediamo se ci sono casse in caso spara oh spawnato vabbè lo uccido a mano ci sono casse? puoi colpire ops vado ok sono caduto tantissimo e sono anche morto ah vado a recuperarmi la roba perchè avevo sono caduto giù e ho perso tutti i cuori tranne uno c'è la flixbox come la chiami? la flixbox nooo buu non si è esploso dove sono morto io no no si è esploso sopra ma il problema è che tipo un creep ha fatto esplodere il cristallo ah ok quindi dici che ci siamo presi aspetta mi sono perso arrivo secondo fatto esplodere non lo so avevo l'armatura di ferro la spada tenuta in protezione probabilmente sai cosa ti ha fatto i danni anche la eh infatti il cristallo probabile vado a recuperarmi la roba che dovrebbe essere là ci sei anche tu nella stanza? si 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 nella stanza si sono qua fuori si sono nella quanta com aia oi che che sei inseguito da un ragno solo? solo un ragno? ah ok adesso ho visto gli altri io dovrei essere morto sotto più o meno ok vedo la mia roba più o meno in giro tipo questo il ferro no zombie che esplodono sott'acqua no creeper sono sott'acqua zombie che esplodono sott'acqua sono morto di nuovo mi sembri a segnare la prima puntata mi fate muovere? ah no dai è bellissimo sono morto dentro una dentro una barca ok ehm oh cazzata no ce l'ho fatta questo devo recuperarmi la mia armatura al più presto eh anch'io ne facciamo un'altra cibo legno ma perché batman non ci aiuta? sono così tanti aiutaci tu ma quanti sono? non esserci spawner ancora dentro vabbè c'è la tua barca dove sei molto si ma c'è anche tutta la mia roba sott'acqua spade boom 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 ecco merda direi che mi faccio un'altra spada almeno un'arma turina si io ho portato un paio di spade vediamo se riesco a combinare qualcosa mi metto su anche i feather falling là così vediamo wii ok c'è uno zombie con in testa in testa? pensavo un colpetto vediamo se riesco a raggiungere quella zona non laggare adesso quanta gente c'è qua? eh tantissima come al solito quando ovviamente sarà notte tra l'altro io non riesco tanto a vedere distante adesso mi carica poco ecco perché è notte beh è una sono dimmi ma sto dicendo che era ben una puntata che non muoviamo un sacco di volte esatto io intanto cerco di recuperare un po' di attrezzi qua sotto senza che mi sparate 8000 volte morite tutti io faccio il tuffo della vita aspetta wow ridammi le mie robe che figata non ci fosse ah ma perché ce l'ha incantato è quella che è da buffa ok intanto io mi rimetto l'armatura ma fanno un danno della madonna gli scheletri cioè eh sì ho recuperato almeno un po' la spada oh un villager ok cosa che è miliardi di persone ah pensavo che fastidio ah so di quello che soppelle ah n Stamp lo Cristo basta gente Don't touch me now Eh, è viva Bello morire ogni due secondi Beh, siamo tornati alle origini Un po' di nostalgia Sì, esatto Vi eravamo mancati? Sembrava tutto facile, grazie al ferro Eh, infatti Tanto è esploso tutto, non c'è niente Come è esploso tutto? Eh, praticamente Sto muovendo, di già Aspetta che torno lì E vediamo se riesco a recuperare qualcosa Bisognava continuare a fare il giro e mettere torce Quello sì Sono morto Mi ho messo un po' di torce Credo sia la frase che diremo di più all'interno di questo let's play Sono morto Eh, riesci a prendere un po' di torce? Sì Ecco, fai torce e comincia a fare il giro Magari comincia a fare il giro da Da sinistra Che è illuminato ancora Ma se ho lasciato per caso il carbone lì dove sono morto Eh, ok Provo ad arrivarci a nuoto adesso Non si riesco a recuperare qualcosa Sì, perché passare per l'acqua Hanno un vantaggio estremo loro Bisogna passare per la terra E illuminare tutto quello che si può Per prendere la glowstone Non si riesco a recuperare spade Una cosa varia Ok, una spada l'ho recuperata Più che altro perché ti sparano sott'acqua Eh, sì, sì I cosi ed è un fastidio tremendo Ovviamente c'è un creeper Vorrei riavere indietro i miei pantaloni Grazie Scappa scappa Ho preso una carota anche adesso Sì? Sì Aspetta che sto scappando All'impazzata Vediamo anche cosa ho recuperato Allora, ho recuperato Ok, un po' di armatura Ovviamente la roba Incantata Non ancora Eh, c'erano sopra gli elettri di tizi Eh, ho visto Vediamo se Mi riesce a dare qualcosa o? Scusa? Aspetta Non ho recuperato tantissimo Perché sto ancora girando Aspetta Mettiamo via la carota Che tanto non ci serve Continuo a illuminare in giro Ma ci sono miliardi di creeper adesso Sì, comunque Vengono fuori da spawner Perché ci sono dei Come si dice Dei villager zombie E non vengono fuori naturalmente Quelli, mi sa No, sì, sì Vengono autospanati Ma quanti sono? Milioni Marda Quanta gente Veramente col fatto che raccolgono le cose Ci hanno raccolto tutto il materiale Sì, sì, tutto Cioè, guarda quanta gente c'è in mezzo al lago Non so se vedi Ma io sono sott'acqua Sì, ecco, guarda in alto Guarda, se mi guardi le mie immagini Sono pieno di frecce Fighissima No! Ho visto No, non voglio No, sei uno stronzo Ma magari esplodere un creeper no, eh Ma se prendo la TNT e facciamo distruggire tutto No, è esplodere il creeper, vedi? L'hai chiesto Dormiamo, dormiamo, dormiamo Dormiamo Vai Ah, cavolo Siamo anche verso la fine dell'episodio Non è che sia successo tanto in questo episodio No A parte trovare ferro in gran quantità Però adesso dovrebbero essere esplositi tutti quei mob E esserci tutta la mia roba Tutti? E mi sa di sì Perché ho visto un mattello di morti E dovrei avere la mia roba lì del La roba che avevo recuperato lì dove c'era il ferro Si riesce a saltare sott'acqua? Sì, sì, sì Oh, di più Là dove c'è quella specie di cowboy scheletro Che buffi che sono quando mettono sulle robe Ma perché non c'hanno il corpo e si mettono l'armatura Con i pantaloni poi sembrano Io non vedo ancora di niente Qui sott'acco dovrebbe esserci tutto Milioni di frecce Oh, eccole qua Allora, la carota Ok Ma se uccidiamo il cowboy? Ah, uccidi pure Io intanto recupero tutto quello che vedo qua Vi sono le subacquee ancora Se non muoio, ha negato Don't touch me Don't touch me Ok Torce Ho ritrovato l'ink sack Se vuoi salvi Oh, bene Mettiamoci su quello che abbiamo di armatura Torce, se ne ho, si Un po' c'è no C'è altra roba qua in giro? Eh, io sto prendendo sott'acqua C'è un po' di roba Ossa in gran quantità Qua c'è un po' di esperienza delle nostre morti La spada smite è tua? Sì Eh, sì, se l'hai recuperata o tanto meglio Sì, sì, sì L'ho trovata Ma andava tranquillo Ah, piccone, ecco Cos'è che non ho trovato ancora Io avevo visto i pantaloni Là C'è le scarpe Lì Io intanto illumino l'illuminabile Qua E sarebbe utile WIIII Ovviamente non manco l'acqua Qua cosa c'è? Frecce Mi sembra che non c'è più niente Ok, quindi abbiamo perso un po' di robe Un po' tante Io tipo avevo due stack di ferro Cioè di carbone Ah Ottimo Io ho due spade Quattro spade Ho un po' di frecce Ma Quelle che erano Mi sa che sono ancora lassù Là cosa c'è alla fine? Un golden helmet Con una respirazione 3 Respirazione Ah, vedi che c'era Sì Eh, potremmo prenderlo per scavare il ferro Ma abbiamo combinato lo stesso C'ho 12 glowstone Piazzano un paio qua in giro Una qua Ok Ci vediamo nel prossimo episodio Dove continuiamo Sì, sì, sì Questo assalto Ehi, picchiatevi Ciao Sì, sì, sì E intanto che uno scheletro sta picchiando No Picchia gente varie Uccidiamo lo scheletro Ok, basta Ok, ci vediamo nel prossimo episodio Ciao Ciao Ciao